Torna dopo il successo dell'anno scorso la rassegna itinerante Un'altra estate organizzata da Fondazione Sistema Toscana, Toscana Promozione Turistica, Il Quotidiano e Il Tirreno e Vetrina Toscana. Un tour alla scoperta di sette borghi e scorci inediti della Toscana all'insegna della valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze enogastronomiche. E' la seconda edizione quest'anno dopo il successo dell'anno scorso. Abbiamo aumentato le tappe, sono sette, si parte il 19 luglio dall'Isola d'Elba, da Marciana Marina ed è un percorso tra le eccellenze della Toscana. Intendiamoci, la Toscana è tutta bella, come dice un felicissimo slogan, per cui inevitabilmente scegliamo. Scegliamo questo rapporto con il territorio perché? Perché un giornale come Il Tirreno ha inevitabilmente un rapporto strettissimo con le sue città, le sue comunità, i suoi lettori. Per sette giovedì tra luglio e settembre alcune delle località turistiche più caratteristiche si metteranno in mostra attraverso le loro bellezze artistiche e storiche e anche attraverso i loro sapori con una degustazione di vini e prodotti locali. Anche i ristoratori saranno coinvolti. In ogni tappa sarà infatti proposto un piatto locale in onore all'anno del cibo italiano indetto per il 2018 dal Ministero delle Politiche Agricole e dei Beni Culturali e del Turismo. Un'altra estate per noi significa il racconto perfetto della vacanza estiva nella nostra regione che ovviamente parte principalmente dalla costa ma dalla costa anche nell'esperienza di viaggio e di vacanza si avvicina all'entroterra. Quindi i sette luoghi scelti per questa edizione che avrà come filo comune denominatore i borghi nella Toscana sono luoghi sulla costa ma anche all'interno ma comunque mantenendo l'esperienza di vacanza nella nostra regione come cifra stilistica comune. Un'altra estate partirà il 19 luglio da Marciana Marina all'isola d'Elba con una visita guidata al caratteristico borgo di pescatori di Cotone e proseguirà poi a Chianni, Pitigliano, Piombino, Monte Carlo di Lucca, colonnata per concludersi a Vinci. La magia dei luoghi, i sapori, i colori e i profumi di una Toscana inedita saranno i veri protagonisti di un'altra estate. L'immagine della nostra regione è così diffusa e così originale in ogni suo dettaglio. Anche quest'anno cerchiamo di costruire un altro racconto, un altro percorso. Attraversiamo piccoli borghi, lo facciamo cercando luoghi esemplari che raccontano e sintetizzano l'immagine di una Toscana equilibrata, piena di storia, piena di contenuti, piena di tradizioni, piena di sollecitazioni nuove che possiamo mettere a disposizione dei nostri ospiti del turismo in una stagione che tutti i segnali ci indicano essere estremamente positiva.